Torna in Darsena a Viareggio per la seconda edizione dal 10 al 13 maggio il Versilia Iocci in Grande V, la manifestazione internazionale della nautica di alto livello con oltre 200 espositori. Alla conferenza di presentazione svoltasi al Palazzo delle Muse a Viareggio è intervenuto il presidente della regione Enrico Rossi che ha sottolineato l'intenzione della giunta toscana di sostenere ancora la manifestazione. Noi abbiamo iniziato due anni e mezzo fa a parlarne, poi l'anno scorso è stata realizzata, ha avuto successo. Noi abbiamo un impegno triennale, mettiamo 400 mila euro ogni anno, quindi una cifra importante e l'anno prossimo faremo una valutazione di questa manifestazione e verificheremo se si potranno, come io mi auguro, prendere impegni per altri tre anni. In Toscana si produce il 25% delle barche sopra i 30 metri e il Versilia Iocci in Grande V resta un riferimento importante per lo sviluppo della nautica. Ci sono tutti i presupposti per poter fare un ottimo lavoro, consolidare quello che è stato fatto in questi due anni. In più i partner sono veramente di eccezione, Fiera Milano, Nautica Italiana e tutte le associazioni che ci stanno dando una mano, supportando e collaborano con noi. Quindi credo che questa sia veramente una manifestazione di eccellenza per Viareggio. In programma durante le quattro giornate del Salone, 30 eventi che vanno dai nuovi trend del design a bordo, le nuove tecnologie e incontri tra operatori e broker. Grazie. 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 Grazie.